salve amici oggi vediamo come misurare la larghezza di banda o banda passante di un amplificatore audio cos'è la larghezza di banda di un amplificatore è l'intervallo tra la frequenza di taglio superiore e la frequenza di taglio inferiore la frequenza di taglio è la frequenza alla quale la potenza in uscita si dimezza ovvero la tensione si riduce al 70,7 per cento della sua ampiezza massima a centro banda per effettuare questa misura abbiamo bisogno di un carico puramente resistivo da 8 ohm da collegare in uscita all'amplificatore da misurare dobbiamo effettuare la misura a una frequenza di riferimento di un kilohertz con un'onda sinusoidale e una potenza in uscita di un watt sulle resistenze un watt sulle resistenze da 8 ohm equivale a una tensione di 2,83 volt circa effettueremo questa misura con un tester economico un altro tester professionale e l'oscilloscopio e vediamo con quale di questi è possibile effettuare la misura fino a che punto perché perché il tester economico ha una banda passante in vero valore efficace quindi il true rms è 440 hertz mentre per quest'altro tester la banda passante è 20 20 mila hertz l'oscilloscopio ovviamente è una banda superiore alla banda audio quindi vedremo come si comporta la misura con questi tre strumenti quindi la prima cosa che dobbiamo fare è accendere l'amplificatore farlo riscaldare un attimino per portarlo alla temperatura di esercizio e poi imposteremo il generatore di funzioni per un'uscita con un'onda sinusoidale fino ad ottenere in uscita dall'amplificatore sul carico resistivo una tensione di 2,83 volt ok l'amplificatore è stato acceso vedete che sulla traccia in giallo ho collegato l'ingresso all'amplificatore sulla traccia in azzurro celestino ho collegato l'uscita dell'amplificatore abbiamo anche inserito le misure in valore rms su ingresso e uscita e adesso vediamo di portare aumentando la tensione con il generatore di funzione vediamo di portare in uscita 2,83 volt che è la tradizione alla quale otteniamo un watt sul carico da 8 ohm effettuiamo le misure con tutti e tre gli strumenti quindi questo lo collegherò tenendolo in mano quindi siamo alla frequenza di 1 kHz e vediamo che con questa tensione in uscita dal generatore di funzione abbiamo la tensione che volevamo di 2,83 volt circa al momento le misure coincidono su tutti e tre gli strumenti all'incirca 2,82, 2,83 e sull'oscilloscopio 2,827 quindi siamo sullo stesso valore siamo a 1 kHz vi ricordo adesso abbassiamo la frequenza del generatore di funzioni fino ad arrivare alla frequenza limite inferiore quindi abbasseremo la frequenza finché non avremo una lettura sugli strumenti di 2 volt quello sarà il punto alla frequenza di taglio inferiore parto direttamente da 20 Hz vedete è leggermente scesa già la tensione sugli strumenti 18, 16, 15 vi ricordo che gli amplificatori per essere definiti Hi-Fi devono avere una banda passante di almeno 20-20 kHz siamo a 10 Hz 9, 8, 7, 6 5 ok vediamo che abbiamo 2 volt su questo qua abbiamo 1,93 volt ma c'è qualche cosa di residuo sotto non riesce a leggere bene il tester la sua banda passante è 20-20 kHz questo è 40 440 Hz si sta comportando bene in bassa frequenza lo oscilloscopio legge 2,09 ok quindi direi vediamo se scendiamo a 4 Hz no a 4 Hz vedete che crolla drasticamente la tensione anche sull'oscilloscopio quindi 5 Hz è la frequenza di taglio inferiore adesso andiamo ad aumentare la frequenza fino a trovare il limite superiore parto di nuovo da una frequenza 20 kHz in modo da andare un po' più rapidamente lascio la tensione in uscita dal generatore di funzioni costante e controllo che sia costante anche in ingresso quindi con la misura dello oscilloscopio vado a leggere che la tensione non stia cambiando perché altrimenti poi in uscita ovviamente avremo una tensione diversa vedete che siamo a 34 kHz questo tester non riesce più a stare dietro come valore in vero valore efficace infatti sta segnando una tensione molto più alta dell'effettiva sull'oscilloscopio abbiamo 2,87 su questo tester abbiamo 2,89 la frequenza 34 kHz 40 kHz 50 kHz la tensione su questo tester sta andando via via sempre più in alto quindi è inutile effettuare misure di banda passante a frequenze superiori ai 20 kHz con tester economici perché non riuscireste ad ottenere il valore che vi aspettate questo tester sta ancora a 2,8 e corrisponde all'oscilloscopio che segna 2,78 andiamo rapidamente finché troviamo il valore a cui la tensione vi ricordo diventa 2 volt sull'oscilloscopio abbiamo ancora 2,12 volt siamo a 120 kHz ok 120 kHz sull'oscilloscopio ho 2 volt su questo abbiamo 2,13 volt questo 9,6 volt andiamo ad aumentare un po' la frequenza e vedo che già a 125 è scesa la tensione anche sull'oscilloscopio segna 1,96 quindi mi sembra che la sua frequenza di taglio superiore sia intorno a 122 kHz sì 122 kHz è la frequenza di taglio superiore di questo amplificatore quindi ha un'ottima risposta in frequenza veramente molto ampia quindi si comporta veramente bene però non dobbiamo dimenticare una cosa che è importante anche per quanto riguarda gli amplificatori audio e la loro banda passante anche la fase cambia durante l'intervallo di frequenze esaminate e quindi nel prossimo video vediamo come misurarla e quanto è il valore che dovremmo aspettarci il valore che dovremmo aspettarci ovviamente è il più basso possibile quindi dovrebbe mantenersi intorno a 0 gradi di sfasamento e il più costante possibile vi faccio vedere subito un'anteprima di quello che ci aspettiamo vedete che c'è una differenza tra l'onda di tempo una differenza di tempo tra l'onda in ingresso e l'onda in uscita questo è lo sfasamento quindi misurando questo intervallo rispetto al periodo della singola onda possiamo calcolare quanti gradi di sfasamento all'amplificatore vado velocemente a 1 kHz vi faccio vedere che a 1 kHz lo sfasamento è il minimo in teoria dovrebbe essere 0 in effetti vedete nel punto di intersezione con lo 0 non abbiamo sfasamento va bene ragazzi per oggi è tutti grazie alla prossima grazie a tutti